Gloria a te, Madre che dai cammini da, io di mezza cammini da, venita infinita, tutto il peato vive in te, Signore, la tua gloria, tutta la storia ti darà, onore e vittoria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza e i cittadini di ogni giorno è in pace e nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti i uomini e con i nostri figli. Fratelli e sorelle, per i meriti e intercessioni di tutti i santi, invochiamo oggi, con rinnovata fiducia, la Divina misericordia per tutti i nostri peccati. Signore Gesù, allievo il comando per la nostra salvezza, abbi pietà di noi. Signore, pietà di noi. Cristo Gesù, Cristo Gesù, primo genito di corvoche di soffro dei morti, abbi pietà di noi. Signore, pietà di noi. Signore Gesù, l'alba padrona della nuova e l'eterno città di Dio, abbi pietà di noi. Signore, pietà di noi. Dio, l'Impotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i vostri peccati e ci conduca la potenza. Amen. Gloria a San Dio, nel palco dei Cieli, e pace in terra, e a tutti in ora della tua. Noi gloriamo, in Ete che ci siamo, e gloria, 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 gloria, e gloria, e gloria. Signore Ero Dio, a niente di Dio, figlio del Padre. Doidoni i miei carini del mondo, amami i miei carini nel ora, e gloria, e gloria, e gloria. Giorgia, e gloria, e gloria. Ma, l'له e gloria è lo sistema. Doviamo salere a me, a me, perché sono mio sacchio, te sono tuo Presidente, Signore, il sovrapposito di Gesù Cristo, lo Spirito Santo, e la gloria di tua madre, amore. Prendiamo. Dio, un impotente ed eterno, che voglia la tua Chiesa, la gloria di celebrare, in un'unica festa, i veniti e la gloria di tutti i santi, concedi al tuo popolo, per qualche intercessione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio che è Dio, e viverebbe a contemper l'equità dello Spirito Santo, per cui il servo di Gesù, la amore. Dio, un impotente ed eterno, che voglia la tua misericordia, Dio, un impotente ed eterno, che voglia la tua misericordia, Dio, un impotente ed eterno, e che voglia la tua grande morte, durante quattro anni, a riguardo che è stato concesso, di delosare la terza prima madre. Non delosare, nè il marmo, nè il cammino. Il tema del primo interesse, il sito della parte dei servizi del nostro mondo. E il primo è il primo lavoro, il primo insegnato, il sito, e il quarto è il nostro insegnato, come neanche da un'attività di fede. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.